Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EvryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie del mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlando di Square Enix. La casa ha infatti recentemente annunciato Final Fantasy Explorer, un'esclusiva 3DS. Non si tratterà di un normale capitolo della saga, bensì di un gioco più simile a Monster Hunter, dato che da soli oppure in cooperativa si potrà andare in caccia di alcune delle creature più pericolose che abbiamo visto in tutti i capitoli della serie. Si parla anche di un sistema di classi per il personaggio, quindi ci saranno ad esempio un monaco, un cavaliere e diverse tipologie di mago. Quello che invece non si sa sono notizie relativamente ad una localizzazione europea per le quali dobbiamo ancora attendere. E passiamo adesso a Microsoft che ha annunciato l'esclusività per Xbox One di Scalebound, ossia il nuovo action di Platinum Games. Informazioni sul gioco Newington non ce ne sono tante, sebbene Hideki Kamiya abbia dichiarato che Microsoft ha finanziato buona parte del progetto proprio come Nintendo fece con The Wonderful 101. Qualche informazione anche dal profilo LinkedIn di Joseph Staten, ossia il writer famosissimo del franchise di Halo. Sarà coinvolto nel progetto ma non solo, sarà coinvolto anche in Sunset Overdrive. Phil Spencer al momento ha dichiarato che non ci sono progetti per mostrare il gioco nel prossimo futuro, ma naturalmente noi non vediamo l'ora di saperne di più. E passiamo adesso a Nintendo che nei giorni scorsi ha pubblicato una lista di tutti i giochi in arrivo su Wii U e 3DS in Europa nel prossimo futuro. Tra questi figura anche Persona Q Shadow of the Labyrinth, della cui pubblicazione si sarebbe dovuta occupare Miss America, una casa già famosa per aver portato diversi titoli della serie nel vecchio continente. Tuttavia tramite alcuni messaggi su Facebook la compagnia non ha né confermato né smentito di essere al lavoro sulla pubblicazione del gioco per l'Europa, il che getta un'ombra sull'arrivo di questa produzione. Naturalmente rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in tal senso. E passiamo ad una notizia che sta facendo molto discutere tutti i fan della serie di Street Fighter. Yoshino Ariono, il leggendario producer della saga, ha infatti lasciato la sua posizione presso gli studi di Capcom Vancouver. Ancora non è chiaro cosa voglia fare, tutto quello che sappiamo è che in un tweet ha ringraziato i colleghi che hanno lavorato con lui all'ultimo capitolo di Dead Rising e ha anche lasciato intendere che al momento non ha molta idea di cosa fare del suo futuro. Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i possibili sviluppi di questa vicenda. E passiamo adesso a Bloodborne, ossia l'esclusiva PlayStation 4 e nuova EP proposta da From Software con il suo ormai famosissimo game designer Hidetaka Miyazaki. Sembra proprio che l'uscita potrebbe venire un po' prima di quanto previsto. Si sapeva di un generico 2015 e molti pensavano alla fine dell'anno. Invece adesso si parla addirittura di un periodo compreso tra gennaio e marzo proprio dell'anno prossimo. Noi naturalmente non possiamo che sperare che quella per ora è semplicemente una voce di corridoio venga confermata, dato che non vediamo davvero l'ora di mettere le mani su questo gioco. Notizie per FIFA 15 da Electronic Arts. La casa ha infatti annunciato le piattaforme di destinazione del gioco. La versione migliore, ossia quella mossa dell'engine Ignite, arriverà soltanto su PC e Next Gen. Ma il gioco uscirà anche su piattaforme di vecchia generazione, Nintendo 3DS, PlayStation Vita e Wii. Il grande escluso è proprio Wii U e potrebbe darsi che la casa non consideri economicamente vantaggioso farlo uscire su tale piattaforma. E come di consueto passiamo alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana va dritto a Pixel Junk Shooter che è appena uscito su PlayStation 4 in una forma davvero smagliante. Il mix di generi del progetto QGames si conferma veramente unico e anche il comparto grafico sebbene semplice ci ha davvero colpito. E il flop di questa settimana va invece a Bandai Namco. Per bocca del game designer Hideo Baba la casa ha annunciato che non porterà Tales of Zestiria né altri titoli della saga su Wii U. Sempre si tratta naturalmente di una questione economica, dato che questi titoli in occidente hanno un impatto relativo e conseguentemente si cerca sempre di puntare sulla console più diffusa. Nel caso dell'Italia naturalmente si tratta sempre di PlayStation 3. Lo sviluppatore non ha chiuso definitivamente le porte a Wii U a quanto pare, anche se non ci aspettiamo grandi sviluppi in futuro. E con questo per l'edizione di oggi era tutto e noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo giovedì. Ciao!